Oggi è martedì grasso, l'ultima sfilata di carnevale che finalmente alla fine vedremo Tutti i carri bruciati ma tanto qui non abbiamo neanche nessun carro e quindi oggi ci sarà l'ultima sfilata Sarebbe la sfilata di carceofali, chiamiamolo così Andiamo a recuperare la sfilata e quindi vedremo l'ultima serata Ciao ragazzi, andiamo Ok, come ne vatti? Grazie a tutti Ok Ecco, noi dobbiamo andare in quel gruppo Ma guarda il bacino, un attimo è passato Ok E con la rex, o qua? Oh, mi vio là E' remoldo Non male I diavolacci Non ci posso credere, diavolacci Tutti i diavolacci, guardate E' remoldo Oh, mi vio è passato Ok, guardate E' un'altra Ma guardate E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Seppura sta! Violi di seppura! No, no, grazie! Calenti, calenti! Bene! Sta seppura! Ha detto! Tragiamo! Mi piace a lei il fai gatto! Non mi piace! Non so, fai il tace di fai gatto! Non, non so, fai il pieto! Un pozzo! Un pozzo! Piena lìa! Questa è un pozzo! E' un pozzo! Un pozzo! E' un pozzo! E' un pozzo! E' un pozzo! Un pozzo! Grazie a tutti. 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 Let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.